E' stato pianificato per uno o due giorni, secondo gli investigatori, l'agguato compiuto la notte tra sabato e domenica scorsi da un uomo che ha sparato tre colpi di pistola calibro 9x21 contro un furgone della polizia parcheggiato davanti a un hotel di San Severo nel Foggiano. L'ipotesi investigativa deriva dal fatto che l'auto utilizzata è stata rubata due giorni prima a Termoli, quasi certamente per compiere l'attentato ai danni della polizia. Dell'indagine della procura di Foggia, che potrebbe portare a breve ad una svolta, sono finite le riprese delle telecamere di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e le tracce di alcuni telefoni cellulari captate dalle celle telefoniche della zona.